Morire a 39 anni perché l'ospedale Perrino di Brindisi, uno di quelli che dovrebbe essere all'avanguardia in Puglia, è privo di una figura fondamentale come quella del radiologo interventista, ossia lo specialista che deve affiancare il neurochirurgo negli interventi d'urgenza. Antonio Picciolo probabilmente è morto per le oltre tre ore trascorse al pronto soccorso del Perrino prima di essere trasferito in ambulanza con una emorragia cerebrale in corso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è giunto in condizioni talmente gravi che non è stato possibile neanche portarlo in sala operatoria. Il deputato Brindisino Mauro Dattis ha chiesto al governo che vengano inviati gli ispettori e il consigliere regionale Fabiano Amati che si è istituita immediatamente azienda zero per razionalizzare il personale ma ciò che emerge è che da anni incredibilmente al Perrino manca una figura fondamentale in una struttura sanitaria. già dal 2017 la presenza del radiologo interventista venne ridimensionata e utilizzata solo dalle otto del mattino alle otto di sera. Negli anni successivi è definitivamente scomparsa con conseguenze drammatiche per i ritardi con cui i pazienti in condizioni gravissime vengono spediti in ambulanza verso altri ospedali in situazioni in cui più che i minuti i secondi sono preziosi. Antonio Picciolo dopo un malore avvertito in un locale da ballo di San Pietro Vernotico ed essere stato soccorso da un'ambulanza è salito con le sue gambe sulla barella quando è giunto al Perrino pienamente cosciente e vigile. Era l'una e quindici di venerdì notte solo alle quattro e trenta è stato avviato il trasferimento a Taranto dove è arrivato intorno alle cinque del mattino ormai in coma irreversibile. Era sposato e padre di due bambini di 12 e 5 anni. Il rione paradiso dove abitava ed era amatissimo è sotto shock funerali nella chiesa del quartiere.